Sono Maurizio Lampardi e grazie di Gagwa, ci occupiamo di cura della relazione in gruppi, corsi di gruppo e sessioni individuali, conduciamo in coppia e siamo coppia nella vita di tutti i giorni. Abbiamo sviluppato un nuovo metodo che si chiama Active Integrative Method e che si occupa di crescita personale e cura della relazione attraverso gli elementi del tantra, dell'integrative body psychotherapy e delle costellazioni familiari. è decisamente migliorata la situazione. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti.